Controlli anche in Abruzzo e il nastro dei carabinieri in 42 menze scolastiche con punto di cottura interno ma anche refettori e centri cottura per la preparazione di pasti destinati alla refezione scolastica. Per circa la metà degli obiettivi ispezionati sono state evidenziate carenze non particolarmente gravi, numero maggiore nella provincia di Teramo, minore nella provincia dell'Aquila. Le situazioni più critiche sono state riscontrate nelle province di Chieti e Pescara dove sono state rilevate inadeguatezze igienico-sanitarie e strutturali dei locali per la presenza di infiltrazioni e umidità, attrezzature figurifere non idone, presenza di spigoli vivi, locali sottodimensionati ed estintori scaduti di validità. Carenze gestionali sono emerse durante la preparazione dei pasti per la mancata comunicazione al consumatore finale degli allergeni contenuti nelle pietanze somministrate, la mancanza applicazione delle procedure previste dal manuale di autocontrollo e per il riutilizzo di materiale a contatti con gli alimenti monouso. In un solo centro cottura è emersa promiscuità di alimenti vari conservati nelle celle frigorifere destinate a frutta e verdure. Non sono stati comunque operati sequestri di alimenti risultati regolarmente tracciati.